Sì, sì, direi che è importante Non mi pensare Beh, adesso non so, dipende di Portarmi in un sene E qui, qui Sì, 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 senza l'altro, senza l'altro Non dormirei Quanto mi manchi non stai Sì, 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 senz'altro, dottore, senz'altro, accetto No, non credo Sì, 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 è qui, è qui È qui, è qui, è purtroppo Se purtroppo è qui, è qui 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 e per ora non per l'ordine di domani in ufficio, se sei seguito, va bene, va bene, dottore, va bene, se è proprio necessario, se è proprio necessario vengo, vengo subito, e poi strumentale, strumentale, ti lascio, guarda, devo andare a due e due, è una cosa che non c'è, faccio l'ordine di domani in ufficio, ciao, 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 ciao